Ok, sono le 9 e un minuto, siamo entrati nella nuova palestra del Villa Aurelia ed ecco qua, qua ci sono le prime persone che iniziano ad allenarsi nella nuova palestra c'è ancora qualcosa da sistemare, da vedere bene gli spazi passiamo già ad ottimo punto qui andiamo nella saletta denominata corpo libero anche qui c'è qualcosa che ancora va sistemato ma siamo già ad ottimo punto bene, perfetto, io sono Francesco e bene e si inizia ciao ciao